Il mercato del lavoro fa registrare delle performance migliori rispetto all'andamento del PIL. Gli occupati hanno raggiunto il piccolo dei 23,7 milioni trainati dai rapporti a tempo indeterminato. Ma i salari restano fermi insieme alla produttività. Un sostegno alle retribuzioni dei lavoratori arriva dal taglio del cuneo contributivo, ma anche dalla crescente diffusione dei contratti aziendali. L'ipotesi dal 2025 è di far risalire l'aliquota dal 5 al 10%. Grazie per la visione!